Dopo la carne sintetica arriva anche il latte prodotto in laboratorio da colture cellulari, senza aver mai visto neanche l'ombra di una mucca. I ricercatori lo realizzano partendo dal gene della proteina del latte, che viene poi inserito nei bioreattori. Il risultato è un alimento interamente ingegnerizzato. Israele lo ha già provato e presto potrebbe sbarcare in Europa. Dopo la carne sintetica arriva anche il latte sintetico. Coldiretti però dice no perché ci sono rischi di vario tipo. In questo momento storico stiamo vivendo nel nostro sistema agroalimentare un completo rinnovamento e attacco del nostro sostanzialmente background produttivo. Stanno atterrando delle novità che si chiamano novel food. Parliamo dell'agricoltura cellulare che riguarda la cosiddetta carne sintetica fino ad arrivare alla produzione di latti coltivati, che non sono dei veri e propri latte ma sono delle levitazioni di lieviti in assenza di colesterolo e in assenza di lattosio. Quindi sostanzialmente delle nuove bevande. Coldiretti ha innalzato un muro importante ma un muro particolare che non è semplicemente deontologico ma è proprio scientifico. Per la prima volta produttori, distributori e il sistema agroindustriale si è stretto vicino alla Confederazione Coldiretti e tutti insieme. Si pensa di poter affrontare questa nuova dinamica in modo intelligente. Proprio perché questi nuovi cibi hanno per sintesi di produzione qualcosa che li avvicina più a dei farmaci piuttosto che a dei prodotti veri e propri agroalimentari. Coldiretti ha pensato bene di affrontare questa dinamica con una neutralità tecnologica e cioè visionare tutto quanto nuovo a terra nel sistema produttivo, metterlo allo screening delle attività scientifiche e valutarne eventualmente le potenzialità. tutelando il sistema agroalimentare italiano che è importantissimo. Non ci dimentichiamo che l'Italia ha rispetto all'Europa il più grande numero di marchi IGP, DOP, quindi marchi di qualità di grandissimo livello e anche un sistema produttivo di primo livello sia per quanto riguarda le caratteristiche organolettiche che per quanto riguarda le capacità nutrizionali dei nostri prodotti. Grazie.